Buongiorno ragazzi, eccoci a un quesito veramente semplice, però un pochino strano, nel senso che c'è una, diciamo, ci sono due parole leggermente difficili, che è equazione differenziale, in cui è effettivamente presente un'equazione. Vediamo però cosa dice il quesito, quesito 8, 2017 e 18, sessione ordinaria, quindi è effettivamente uscito all'esame di stato del 18. Determinare quali sono i valori del parametro k appartenente all'insieme dei numeri reali, per cui la funzione y di x uguale a, adesso la scrivo grande, y di x uguale a e alla kx più 2, è soluzione dell'equazione differenziale, la riscrivo, dove ci dice che la derivata seconda di y meno 2 volte la derivata prima di y meno 3y è uguale a 0. Allora, mentre questo è un quesito ministeriale che adesso risolviamo in due minuti, vi mostro anche un quesito che mi ha chiesto una ragazza di nome Diana, che è leggermente più complesso, lo voglio fare alla fine di questo quesito, nello stesso video, che dice, trova a e b tali che, altre equazioni differenziali, la derivata seconda di y più 2 volte la derivata prima di y è uguale a 2 sen x, dove y ha la forma a sen x più b cos x. È molto simile, ok? Anche l'unica differenza è che qui ci sono due parametri da trovare, mentre qui ce n'è soltanto uno. Quindi ovviamente partiamo da questo, che è più facile. Allora, che cos'è un'equazione differenziale? Un'equazione è dove c'è un'incognita. Nell'equazione differenziale l'incognita non è la x, è una funzione, ok? E la soluzione è appunto una funzione che poi è questa, y di x. Ma domanda, noi questa funzione ce l'abbiamo? Perché se se l'avessimo avremmo già finito. Beh, quasi, nel senso che ci manca k. Quindi in realtà questa diventerà un'equazione in k, né in x né in y. Facciamolo, nel senso che questa è la mia funzione. La prima cosa da fare, visto che devo poi alla fine sostituire la derivata prima e la derivata seconda, è calcolare la derivata prima. Cioè devo fare la derivata prima di e alla kx più 2, la derivata di un esponenziale, che cos'è? È l'esponenziale stesso per la derivata dell'esponente. E la derivata di kx più 2 sarebbe la derivata di una retta, che è il suo coefficiente angolare, che è k. E quindi il risultato, visto che la derivata di kx più 2 è k, è che la derivata è semplicemente k e alla x più 2. La derivata seconda sarebbe la derivata della derivata prima. E quindi devo fare la derivata della derivata prima, che è questa qui. Allora, questa che cos'è? Allora, intanto k è una costante moltiplicativa. Qui magari qualcuno farebbe la derivata del prodotto, ma... Cioè, un po' così, ci metto un po' troppo tempo. k è una costante moltiplicativa, esce, quindi sarebbe k per, che cosa? La derivata di e alla kx più 2. Che adesso solo non ha Alzheimer, si rende conto che l'ha fatta 3 secondi prima, perché e alla kx più 2 è semplicemente y di x, e quindi la sua... cioè, la derivata l'ho appena fatta, sarebbe e alla kx più 2, di nuovo per k. Quindi la derivata seconda viene k per k, k alla seconda, e alla kx più 2. L'esercizio perché è finito? E perché adesso io, avendo, diciamo, dovendo rispettare questa condizione, e y2 ce l'ho, ce lo metto dentro, quindi viene k alla seconda per e alla kx più 2, meno 2 volte y primo, che è k e alla kx più 2, meno 3y, che è e alla kx più 2, uguale a 0. Allora, qui ovviamente, quindi questa equazione è diventata questa qua. Ovviamente uno che adesso non sa bene cosa fare, non capisce neanche se l'incognita è k o x. Io l'ho già detto che è k, ma perché? Perché adesso io semplicemente raccolgo l'esponenziale. Raccogliendo l'esponenziale viene e alla kx più 2, che raccoglie un k alla seconda, meno 2k meno 3, uguale a 0. E qui uno che in prima liceo, in seconda liceo, ha studiato la legge del non aumento del prodotto, sa che una mela per una pera fa 0 se solo se almeno uno dei due valori fa 0. Quindi, non è che bisogna chiedersi quando è, per quali valori di x questa funzione fa 0, perché noi vogliamo che faccia sempre 0, attenzione, eh? Cioè noi vogliamo, noi non vogliamo trovare i valori della x, noi vogliamo trovare i valori della k, cioè noi vogliamo trovare quei determinati k, per cui quelle funzioni rispettano sempre l'equazione differenziale, non qualche stupido valore della x, non c'entra niente, a parte che un esponenziale non fa mai 0, quindi uno può, cioè qui non sbaglia neanche. Poi magari col quesito di Diana capiremo meglio. Quindi l'unica possibilità è che sia 0 invece l'altra quantità, e quindi alla fine quali sono i valori di k giusti? Sono quelli che risolvono queste questioni di secondo grado. Allora, verificare usando il delta che le due soluzioni sono k uguale a meno 1, k uguale a più 3, ok? Usando meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Il quesito è finito perché andiamo a vedere se a noi ci chiedeva, attenzione nei quesiti, capire, determinare quali sono i valori del parametro k. La soluzione? k uguale a meno 1, oppure k uguale a più 3. E quindi la mia funzione è e alla 3x più 2, oppure la mia funzione è e alla meno x più 2. Fatta così, se voi come prova, ma adesso vabbè è stupido, però come prova se ci inserite per quei determinati valori di k la derivata seconda meno 2 volte la derivata prima meno 3 volte la funzione, ottenete 0. Questo, ragazzi, era veramente un quesito facilissimo. È leggermente più complesso questo, perché semplicemente ci sono due incognite. Poi alla fine vedremo qualcosa con GeoGebra per vedere cosa stiamo facendo. L'idea è quella, ragazzi, e adesso abbiamo una funzione a sen x più b cos x. Potrei già partire con GeoGebra, nel senso che se ho una funzione che si chiama a sen x più b cos x, io questa funzione non ce l'ho in mano, cioè non so bene cosa faccia, perché a e b su GeoGebra sono degli slider, quindi se io scrivo una funzione che è a sen x più b per cos x, ovviamente questa è una funzione che però al variare, è una funzione periodica, che al variare di a e di b, fa cambiare i valori. quindi qui sto facendo variare simultaneamente a e b, e vedete che comunque sono funzioni periodiche, armoniche, ovviamente una combinazione lineare di sen e coseno, e va bene così. Allora, come facciamo questo esercizio? Beh, di nuovo, se questa è la funzione, la prima cosa che io farei, che cos'è? È calcolare la derivata prima e la derivata seconda. Andiamo. Allora, se questa è la funzione, la sua derivata che cos'è? Allora, devo fare la derivata di a sen x, che è semplicemente che cosa? a è una costante moltiplicativa, esce, diventa a cos x, ok? Poi dovrei fare più b, più la derivata di b cos x, b esce, quindi diventa più b, e la derivata di cos x è meno sen x. quindi ovviamente più b per meno sen x viene meno b sen x. Adesso sto facendo delle sciocchezze, ma quindi viene la derivata, e viene tanto così. La derivata seconda è la derivata della derivata prima, quindi devo fare la derivata di a cos x, allora la derivata di cos x di nuovo è meno sen x, quindi viene meno a sen x, e poi dovrei fare la derivata di sen x, che è cos x, e quindi viene meno b cos x. Allora, l'esercizio concettualmente è già finito, perché adesso io devo scrivere questa equazione con le derivate che ho ottenuto, quindi sarebbe la derivata seconda, la riscrivo, e attenzione, ovviamente ho scritto questo pezzo, poi sarebbe più due volte la derivata prima, non salto nessun passaggio, quindi due volte la derivata prima è questa, e ho scritto questo, uguale, perché è un'equazione differenziale, a due sen x. Adesso abbiamo finito, perché se adesso io sviluppo la tonda, semplicemente verrebbe più due a cos x meno due b sen x, non fatemi rifare tutto, fatemi togliere per piacere questa tonda, e mettere semplicemente qui uno stupido due, ecco, di nuovo, devo trovare la x, devo trovare la a, devo trovare la b, cosa devo fare? Allora, l'idea, che bisogna sempre fare, anche poi per l'università, è di spostare tutto a sinistra, e cominciare, fatemi fare questa cosa, a raccogliere tutte le cose che moltiplicano il seno, e tutte le cose che moltiplicano il coseno, uguale a zero. Allora, se raccolgo il seno, allora il seno sicuramente c'è questa cosa qui, quindi se raccolgo un seno ho un meno a, poi c'è qui questa quantità qui, che è un meno 2b, e poi questa quantità di qua, se la sposto di là, fa meno 2 sen x, e quindi c'è un meno 2, forse qualcuno sta già capendo. Raccolgo, e quindi niente, questa è la quantità gialla, amico del sen x. Andiamo a creare la quantità blu, se raccolgo cos x, viene un meno b, più 2a. Allora, questo è simile al ragionamento di prima, cioè io voglio che, ovviamente per qualsiasi valore di x, tutta questa cosa qui faccia zero. Ok? Allora, non dovete cercare ragazzi i valori per cui il seno e il coseno sanno 1, non c'entra niente. Ci sono dei precisi parametri, ok, che rendono nulla sempre questo primo membro, indipendentemente dal valore della x. Ovviamente, perché quando è che qualcosa che non so quanto fa per un numero, più qualcosa di variabile che non so cosa fa per un altro numero, fa zero. Ovviamente, quando questi due numeri, che non sono delle variabili, non sono cose che variano, sono dei parametri, fanno zero. Cioè, se questa quadra fa zero e questa quadra fa zero, è ovvio che viene zero per sen x più zero per cos x che fa zero. Tanto che, spero abbiate capito che le incognite non erano le variabili, ma erano i parametri, che sono cose diverse. Quindi, ovviamente, cos'è che devo fare? devo impostare che le quadre fanno zero. E da qui, ragazzi, che nasce un sistemino veramente molto facile dove io trovo a e b e ho finito il mio esercizio. Adesso, tutti ovviamente hanno capito come si fa. Dalla seconda riga b vale 2a, sopra, allora, avrei meno a, poi avrei meno 2b che è meno 4a meno 2 uguale a 0 e quindi, ovviamente, adesso non ci perdo molto tempo, ma viene sostanzialmente meno 5a uguale a 2, quindi a è uguale a meno 2 quinti, mentre b è semplicemente il doppio di a e quindi viene meno 4 quinti. Allora, vi faccio vedere su GeoGebra, questo che si può fare, cosa abbiamo ottenuto, ok? Cioè, come si fa a vedere su GeoGebra che ci è venuto giusto. Allora, io adesso, ragazzi, ho questa funzione, che è una funzione qualsiasi. Calcolo la sua derivata, che è semplicemente Basta che io scriva F' via, che ovviamente sarà un altro grafico, quello blu, e poi calcolo F' che mi sa, che mi fa la sua derivata. E poi scrivo l'equazione differenziale che aveva chiesto Diana, cioè, che è, attenzione, la prima, questa qua, che ovviamente cosa ci sta dicendo? Scritta così, scritta così, che la derivata seconda più il doppio della derivata prima di una funzione deve essere uguale a 2 sen x. Quindi, adesso io tolgo i grafici della funzione della derivata prima e della derivata seconda e creo la funzione 2 sen x, visto che è un grafico che so bene. E allora scrivo 2, ok, che moltiplica sen x. Ok? Adesso io creo anche il primo membro, che è derivata seconda più due volte derivata prima. Quindi, derivata seconda più due volte la derivata prima. E uno dice, ah, hai sbagliato. Ovvio, perché uno dice, era un'equazione, ti è venuta diversa. Beh, ovvio ragazzi che è sbagliata, perché io devo trovare i valori giusti di A e di B, ok, affinché la curva viola diventi uguale alla curva arancione. Cioè, il primo membro è la curva viola, il secondo membro è la curva arancione. Allora, vedete che ad esempio qui mi sto avvicinando ma non ci siamo? Beh, ma ragazzi, io questi valori li ho trovati. Cioè, i valori di A e di B per cui questa cosa sono giusti, io li ho trovati. E sono, perché ovviamente se ci vi è caso non li trovi. allora, il valore di A vale meno due quinti. Quindi, io ad A non gli do un valore a caso, gli do meno due quinti. Al valore di A adesso è bloccato. E quindi devo trovare ora solo il valore di B per cui il membro viola è uguale al membro arancione. Vedete che c'è un momento in cui succede? Ma non è un valore di B casuale per cui succede, perché? E non è neanche questo. È il caso in cui B, che è quello che ho trovato io, fa meno quattro quinti. Meno quattro quinti che fa, vabbè, meno 0,8. Quindi in realtà ci eravamo vicini perché non è meno 0,9 ma è meno 0,8. Se adesso faccio invio, ovviamente il primo membro che è il grafico viola diventa uguale al secondo membro che è il grafico arancione. 3, 2, 1, via. Ok? Adesso A e B sono quelli giusti. Allora vi ho voluto perdere un po' di tempo ma spero di avervi fatto capire cosa sto facendo. Ok? Nelle equazioni differenziali i due membri non sono due numeri ma sono due funzioni e noi dobbiamo trovare i valori, i parametri giusti per cui il primo membro come funzione, come grafico, sia sovrapponibile, quindi sia identico per ogni valore della x, per ogni valore della x al secondo. Quindi nelle equazioni differenziali fatte così non bisogna trovare le x ma bisogna trovare i parametri per cui il primo membro sia uguale al secondo.